Il rappresentante legale del Comitato Civico e Ambientale Cosimo Panico ha inviato un esposto alla Procura della Repubblica. Panico scrive Al sindaco segretario del Comune di Battipaglia chiedo di conoscere se relativamente alla vicenda della rete del gas metano di Battipaglia sussistono i presupposti per l'adozione di provvedimenti in autotutela e per la trasmissione di un rapporto dall'autorità giudiziaria e se sia stato fatto rapporto alla Corte dei Conti e di conoscere infine lo stato del procedimento ad evidenza pubblica per l'affidamento della concessione alla rete. Al Presidente dell'autorità anticorruzione di interessarsi della vicenda esposta al fine di accertare eventuali responsabilità al Procuratore ricorda Panico che tale istanza di accesso è stata accettata al protocollo generale del Comune di Battipaglia il 12 settembre 2018. Ho fatto rilevare che è legittima la clausola contenente in una convenzione accessiva ad un affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale che prevedeva che l'ente locale si accolli l'onere di corrispondere al gestore uscente il valore industriale residuo dell'impianto. Il Comune tutt'oggi non ha dato nessuna risposta.